Lui è il bambino dei dinosauri. Adesso a Natale avrai chiesto i dinosauri. Eh, un po' sì, certo. E tu invece, perché abbiamo anche una renna, hai visto che bella renna con tanto di... Eh? Sì. Ma scusa Antonella, a scuola li hai studiati i nomi scientifici degli animali, perché questa si chiama Rangifertarantus. Eh? Rangifertarantus si chiama sta cosa. Vabbè, è Natale, si giustifico. Tu sai che cos'è la Rangifertarantus? Ma cosa è questa roba? Eh, Clementino, te conosci il Rangifertarantus? Eh, a voglia! Rangifertarantus! Ho tutti i dischi!